Grandi pannelli di stucco colorato che imitano i marmi e le pietre più preziose dell'Oriente con i loro possenti cinabri, il blu del lapislazzulo, il verde malachite ed il nero africano, insieme a raffinate cornici ugualmente in stucco e un arredamento che nell'atrio e nelle sale di rappresentanza segue le regole antiche di quello che fu il primo stile. A Pompei gli scavi in corso nella Reggio Quinta restituiscono nuovi tesori e riscrivono la storia di quella che dall'Ottocento era indicata come casa di Giove, una splendida domus con rarissimi decori vintage anticipa all'ansa il direttore del parco archeologico Massimo Osanna, una dimora il cui proprietario doveva essere facoltoso e colto, conscio del valore di pitture già allora centenarie e tanto da averle volute mantenere con un rigore significativo nelle stanze più importanti della casa. Una rarità per la colonia romana dove al momento sono poche le case con testimonianze ben conservate di quel periodo dell'arte, risalente al secondo secolo avanti Cristo e un miracolo di conservazione indica appassionato il direttore a dispetto del massacro perpetrato dagli scavi selvaggi fatti nel Settecento. Dunque è un ritrovamento straordinario, sottolinea. Non sapete quanto io sia felice, commenta sulla stessa linea di entusiasmo il ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli.